spider a coda tronca bellissima bianca targa nuova ma a noi non interessa nulla 2000 bialbero 2000 va a palla questa questa va velocissima alfa romeo 1978 fantastica preferisco l'osso di seppia ma anche questa ancora ci dà una linea ancora moderna facesse delle macchine così davanti spalato ma adoro questa questa è veramente bella con questi bellissimi con i copri fanali se avesse il motore posteriore sarebbe una figata pazzesca la trazione da questo come purtroppo sono quelle che sono 185 70 r 14 però i cerchi non sono originali queste sono le fanalerie le specchierie anni 70 quindi il nuovo alfa romeo qua questo originale tutto fatto in italia il cappottino è messo molto bene bellissima bellissima un volante originale fantastico ragazzi veramente bella questa macchina sarà che io sono di parte perché sono un alfista guardate che figata pazzesca